Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa puntata di Leoletta5 Channel Questo è un altro piccolo video di sfogo dove io mi sfogo con voi In maniera molto così, diciamo, casalinga Per quello che è successo Allora, partiamo dal presupposto che dopo la morte di mia mamma Qua a casa mia non è venuto più nessuno All'avola si dice Ma io modifico questa cosa E dico E mia mamma si pisceva a terra delle risate Nel senso, in avolese All'avola, in provincia di Siracusa, un piccolo paesino Che sono avolese appunto da parte di madre La dicono così Nel senso, ho perso lo scecco Quindi ho perso l'asino Con tutte le carube Quindi con tutto il bottino che avevo coltivato Ma io, rinforzando questa cosa Affermo invece che mi è morto direttamente Mi è morto non solo il bottino Ma anche colui che caricava il bottino Sono davvero rimasta Molto, molto, molto Estremamente delusa da Tutte queste personcine Che chiamate sì Grandi amiche di mia madre Infatti l'ho scritta anche su Facebook Un po' ovunque Nei social Ma di così è entrata Di qua è uscito un po' a tutti E non mi avete cagato Comunque vedi tanto Ultimamente sto ricevendo Tipo Una chiamata Un messaggio Da qualche sua Tipo pseudo amica Le figlie delle sue grandi amiche Invece niente Come se mi è morto veramente il gatto Io non auguro niente a nessuno Però quando vuoi di capita Lo capiscono Non per buttargliele ragazzi Ma è così Cioè Sempre d'Avola Perché Avola è il top of the pop Delle cose simboliche Dicono un altro detto Che è Ufoku unicasca brucia Il fuoco Dove cade e brucia Se il fuoco Scoppia un incendio Il fuoco è In questo esatto punto Dove sono io Io sto male Io sono piena di fiamme Io sto bruciando In questo momento Quindi io Capisco la situazione No Il fuoco Che è là Che in realtà non c'è Perché è caduto qua Ufoku unicasca brucia Se ti capita Una determinata cosa Quindi il fuoco Intesto come cosa brutta No Una malattia Un incidente Qualsiasi cosa brutta Ti succede a te In quel punto A quelle persone Sono quelle persone Che stanno subendo Tutti i danni E capiscono Che cosa vuol dire Quindi Da omosci Cerco con tutti i sacri O fuoco unicasca brucia Ragazzi Questa è la situazione A casa mia Non si è fatto sentire Completamente nessuno Mi aspettavo Da parte Dei parenti Anche di mio padre Non solo da mia madre Molte più visite E invece nessuno Tutti a dire Ah Oh mio dio Qua a casa Mi fa impressione Io che cosa Dovrei dire Ci può stare L'impressione Perché anche a me Mi è capitato Entrare in una casa Di un parente O di un amico In cui poi non c'era più Ma ci sono stata Per quando mi poteva A fare impressione Mi sono stata Due secondi Ma poi sono andata E ci sono andata In che spesso E non solo Una o mezza volta A me mi dispiace Però Mi sento scombussolata Se non ci fosse Lei La mia famiglia Dio La fede Che io ho in Dio E due Tre amici Così random Io non so Se sarei ancora Qua a fare I video Su youtube Probabilmente Mi sarei già Suicidata Dal mio terzo piano Perché ragazzi I pensieri Vengono E vengono E come Soprattutto Quando ti muore La madre E poi è mia madre Io ho sempre Detto una cosa Mi sono sempre Predestinata Questa cosa Ho sempre detto Ma se poi muore Mia mamma Io come faccio Io non riuscirei A sopravvivere Più È vero In qualche modo Sono qua Non ho fatto cose Pazzesche O cose brutte Ma io non lo so Che devo fare Faccio video Avete visto video Di gaming Questi video Usciranno a dicembre Mentre ancora Siamo a novembre Ma sono video Sfogo Ormai per me Io non so Io non so se voi Avete ancora Voglio di sentire Me Una povera Orfana Di madre Disperata Che accende Il cellulare Fa un video Random Dom con la sua Maglietta In casa Non lo so Ci sono nuovi fan Che mi commentano Che mi dicono cose Che mi supportano Io sono contenta Dei nuovi fan Persone nuove Proprio Che si scrivono Così All'improvviso Mia madre È stato un grande Pezzo fondamentale Della mia vita 28 anni Di vita Ho vissuto Quasi 30 anni Da quando sono nata È ovvio E non vi nego Che mi sarebbe piaciuto Invecchiare Con mia madre Vederla vecchia Ma come lei Non si vedeva vecchia Non mi ci vedo Nemmeno io Quindi sono convinta Che anch'io Morirò sui 60 anni Quindi io Le del futuro Se continuerai a fare video Su youtube E avrai 59 anni Toccati Perché probabilmente Tra poco Sarà la tua fine Mia madre Ha vissuto La bellezza Di 52 anni Giovanissima Ho fatto dei tumori In famiglia Il diabete Non è che io Ho grande Lunga Grande vita Lunga Diciamo Aug Però Come diceva L'ultimo pezzo Del film Il Corvo Dice E io non vi racconterò Di come lei è morta In questo caso Ma vi racconterò Come ha vissuto Secondo me L'importante Non è arrivare Alla fine Nella vita Ma Ma il viaggio Che ci sta nel mezzo I valori Che mi ha prasmesso Le idee Le sue idee Che poi Compacevano anche Un po' con le mie A volte sì A volte no I dibattiti Il bene Che ha fatto Le persone Il suo essere sprint Mia madre Mi sollevava Da ogni cosa Aveva un modo Di scherzare Ragazzi E la battuta Sempre pronta Che io in confronto Faccio schifo E non sono niente Sono un po' simile A lei Ma non sarò mai Come lei Lei proprio Era molto più attiva Di me Molto più Pimpante Lei era O il sole Quando entrava lei Quando entrava lei A casa c'era il sole Mi sfotteva Mi insultava Mi diceva Che fai Babazza Che piangi Che dici E io spero Sola di non Dimenticarlo Mai Perché ancora Sono passati Solo tre Fottuti E lunghissimi Messi Che mi sembrano Tre anni Ma I giorni Sono diventati Settimane Le settimane Sono diventati Mesi E mesi E mesi E mesi Però poi Adesso diventeranno Anni Mia madre Era tutto Per me E io so E mi auguro Che ovunque Lei sia Mi protegga E ci protegge Tutti Per quel che può fare Sicuramente Ho sbagliato Tante cose In questi mesi Sto continuando A sbagliare A volte Mi lamento Non dovrei farlo Ma È dura Senza di lei Io le del futuro Che guarderai I miei vecchi Vei video Se li guarderai Sappi che Sei stata forte O perfinto O per davvero Non lo sappiamo Iole Ma sei forte Ok E sicuramente Ce l'avrei fatta Nel frattempo Spero che La Iole del futuro Dell'anno prossimo O tra due anni Abbia Trovato un lavoro Già più o meno Sicuro Che sia felice E che abbia Una casa tutta sua Con tanti animali E niente ragazzi Adesso Vi mando un bacione E E ci aggiorniamo